Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Mataracci. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di Exit Intent Pop-Up per hotel. Allora Edoardo, questa è la tua puntata, quindi lo dico già da subito. Sì. Ti voglio fare alcune domande su come funzionano gli Exit Intent. Vorrei capire un po' cosa sono, da dove provengono, quella che è la loro storia e perché un albergatore dovrebbe voler installare, attivare questi Exit Intent sul proprio sito. Prima degli Exit Intent c'erano i pop-up. In principio c'era il pop-up. Forse in principio c'era l'internet pulito, quello senza pubblicità. L'internet dove c'erano i contenuti per il senso di metterci i contenuti. Quindi voi siete arrivati voi, i marketer, e ci avete messo i pop-up. Perché volevamo vendere, proporre prodotti. Quindi si iniziava da lì per te, quindi c'erano i pop-up, va bene. C'erano i pop-up, quindi ai tempi del World Wide Web c'erano i pop-up. Che cosa sono? Sono degli elementi dell'interfaccia grafica, delle finestre, che si vanno ad aprire durante la navigazione e vanno a proporre un qualcosa. C'è un messaggio all'interno del pop-up, una finestra di avviso, e nel processo di navigazione si voleva rendere noto qualcosa. Cosa che solitamente era la vendita di un prodotto, ti rimando ad un altro sito per venderti qualcosa. Ma all'inizio i pop-up erano molto forti e tendevano spesso allo spam. Non si apriva solo una finestra, ma se ne poteva aprire anche più di una. Tantissime pagine. E poi è nato Adblock, o quei software che vengono tuttora installati sul proprio browser, che evitano l'apertura di nuove finestre. Anzi, alcune finestre venivano proprio bloccate dal browser, con l'evoluzione dei browser, quindi Internet Explorer, Chrome e così via. Quindi questi pop-up, che di fatto erano delle nuove finestre, quindi non erano contenuti all'interno della pagina, ma erano proprio finestre nuove che venivano create, venivano bloccati. E quindi cosa vi si sono inventati? Poi, come l'araba finisce, sono arrivati gli exit intent pop-up. Quindi, nel momento in cui si cerca di uscire dalla finestra attraverso il cursore, si va ad aprire una nuova finestra che ti dice Ma hai visto questo? Ripensaci! Ripensaci! Passa più tempo sul nostro sito, guarda il codice sconto, lascia la tua email. Ed è un sistema diverso perché, tra virgolette, non intralcia la navigazione. Ma si va a proporre solamente quando si sta per uscire dalla pagina, quindi quando il cursore del mouse va verso l'esterno. Sì, non è una nuova finestra, è semplicemente un blocco di contenuto che viene mostrato dal centro della pagina. Ok. E quindi appare. Ma insieme a questi esiste anche il pop-up a sé stante. Quindi una finestra che si apre dopo un certo tempo di navigazione o sotto determinate condizioni. Sì, può essere... può anche aiutare la navigazione. Non sempre doveva vendere qualcosa, però l'uso principale che se ne fa nel marketing è proprio quello di incentivare una conversione, comunque sia. È un avviso che ti rimanda a un qualcosa, un codice sconto, richiedere l'email. Poi, insomma, il discorso è abbastanza ampio e variegato. Sì, quindi a livello di segmentazione del contenuto, come possiamo operare per far sì che l'exit intent o il semplice pop-up abbiano un buon tasto di conversione? Allora, innanzitutto bisogna cercare di andare a proporre un contenuto che sia strettamente connesso alla pagina che si sta visitando. Quindi in questo caso cercare anche di targettizzare molto bene gli exit intent che si vogliono mostrare. Quindi su una determinata pagina mostrare exit intent che si riferiscano a quella pagina. Mi immagino nel caso di un hotel si sta vedendo la disponibilità delle camere, magari anche all'interno dello stesso booking engine. Il cliente sta per uscire, si può mostrare un pop-up per chiamare in struttura. Questo ovviamente si avviene durante il giorno. Durante il giorno intendi dire durante l'orario... ...in cui è presente un receptionist in struttura e può rispondere. Questo è interessante, quindi proprio una segmentazione sia della sezione in cui si trova, della pagina in cui si trova l'utente... ...che dell'orario in cui l'utente naviga quella determinata pagina. Esatto. Perché se sono le tre di notte non proporrò al cliente di telefonare, ma proporrò al cliente magari di compilare il form di richiesta... Sì. ...or mandare un'email magari. E questo è davvero importante, anche perché, e l'ho ripetuto diverse volte, mi rendo conto di essere un po' noioso, l'exit intent deve portare ad una conversione. Il pop-up è un po' passato, ma l'exit intent ti deve aiutare a portare quel 10-15% in più di conversione all'interno del sito. Quindi, dal punto di vista delle metriche, per buttare qualche numero sul tavolo, ci aspettiamo che l'exit intent, innanzitutto, venga misurato, quello che è il suo risultato. Sì. E nel 10-15% dei casi deve avere un'interazione. Sì, i numeri all'incirca sono quelli. Quindi, se noi creiamo per il nostro sito web un exit intent che ha un tasso di interazione più basso del 10-15%, il 20%, insomma, dobbiamo farci qualche domanda. Ma in ogni caso dobbiamo avere la consapevolezza di quello che è quel numero, insomma, sapere quanto è il tasso di conversione. Dopo, se è il 3, se è l'8, se è il 20, se è il 30, non importa. In prima istanza cerchiamo di avere questo numero. Sì, anche perché uno dei compiti dell'exit intent è quello di abbassare il bounce rate, quindi la frequenza di rimbalzo che si manifesta quando un utente è entrato nel nostro sito ed esce, senza aver visitato un'altra pagina. Non visita niente. Entra confuso, disorientato, magari perché il tempo di caricamento del sito è troppo lento. Quindi il sito è impiegato più di 3-4 secondi per caricarsi, l'utente già inizia un attimino a stranirsi, ce ne concede altri due per capire al volo quello che è, non lo capisce subito e se ne vuole andare. Quindi sposta il cursore del suo mouse sulla freccina indietro del browser e è pronto a tornare su Google, da dove è venuto, o sul sito che ha fatto da referral e da link. A quel punto? A quel punto è un problema. Facciamo uscire questo benedetto exit intent, no? Facciamo uscire l'exit intent e questo è il momento in cui ci dobbiamo chiedere che cosa voglio ottenere dal mio exit intent. Tutti i nostri ascoltatori diranno una prenotazione. Ok, bene, ma come ci arriviamo alla prenotazione? Ci possiamo arrivare in metodi diversi. Possiamo o andare a catturare l'indirizzo email di chi naviga per tenerlo aggiornato su una newsletter, oppure possiamo andare a toccare uno dei tasti dolenti quando si parla appunto di prenotazione sul sito web, che è quello che molti chiamano la sindrome del carrello abbandonato. Si verifica quando un utente ha messo nel carrello un particolare prodotto, questo è un termine che deriva dall'e-commerce. Comunque il flusso di acquisto di una camera è assolutamente un flusso di acquisto da commerce. Sì, esatto. Aggiungo una più camera, uno più ospiti. Però nel momento in cui l'utente deve andare a darmi i suoi dati per effettuare la prenotazione, non lo fa. Si ferma, sta per uscire dalla pagina appunto, e in quel momento si va ad aprire un exit intent. L'exit intent in quel caso può proporre un buono sconto per ultimare la prenotazione. Un po' come a dire, guarda, sei quasi arrivato alla fine del processo di prenotazione, ti incentivo ancora di più con un 5% di sconto per concludere appunto la conversione. Quindi il Booking Engine deve essere in grado sia di presentare l'exit intent in prima istanza, sia di poter applicare uno sconto, un coupon, un codice sconto. Sì, questo è importante che il Booking Engine permetta questa cosa. E mi riaggancio a quanto detto in una delle scorse puntate, l'importanza della chat integrata all'interno del Booking Engine. Perché sì, l'exit intent è importante, però una chat integrata all'interno del Booking Engine con cui chattare istantaneamente tra albergatore e cliente è ancora più importante. Perché abbassa e riduce i tempi di conversione. Un altro contesto in cui mi immagino l'apertura di un pop-up e non di un exit intent è all'interno di un blog. Quindi sempre in una puntata, due puntate fa abbiamo parlato dell'importanza del blogging, della scrivere articoli per gli albergatori. In questo contesto, quindi quando avete un blog e avete scritto dei contenuti e degli utenti li stanno leggendo, potrebbe essere interessante l'idea di mostrare un pop-up che si apre dopo un minuto, dopo 30 secondi. Dove chiedete al turista, al cybernauta, di magari fare un subscribe alla newsletter. Perché in quel contesto lì dice, potete immaginare, sto leggendo un contenuto interessante e voglio riceverne degli altri e a quel punto inserisco le mie credenziali, le mie mail per ricevere altre informazioni. Sì, si va a reindirizzare il cliente verso anche altri contenuti, insomma. Sì, altri contenuti che andranno pubblicati in seguito. Quindi questo è un pop-up che appare a tempo. Invece nell'home page, quando prima hai parlato di bounce rate, quello è interessante perché l'utente, come dicevamo prima, può aver perso tempo nel tempo di caricamento della pagina. Può non aver capito dove siete, può non aver capito che tipo di struttura siete, può non aver capito diverse cose. Quindi il mio obiettivo è, se l'utente atterra sul mio sito e se ne sta per andare subito, quindi con un bounce rate 100%, prende e se ne va, io a quel punto voglio cercare di salvare il salvabile. Voglio dirvi il miglior hotel a Roma, una struttura a Roma vicino a eventuali fiere, per cercare comunque al novantesimo minuto di riprenderlo e farlo comunque restare. Scopri di più, scopri le nostre camere. Se invece sono nella pagina dei prezzi, a quel punto se sta per uscire dalla pagina prezzi, che alcuni hotel ancora hanno, la pagina vuolta rifare, ma va bene, è una strategia antica ma ancora rispettabile. E da lì, quando vado ad uscire, ti offro uno sconto, perché magari uno dice questo è troppo caro, oppure non è all'altezza di quello che avevi in mente, o non è geograficamente ubicato nel posto giusto questa struttura. Alla luce di questo è importante segmentare anche gli exit intent. Prima quando mi parlavi di c'è una fiera a Roma, ad esempio io posso andare a modificare il mio exit intent per il periodo in cui so che ci sarà una fiera a Roma, quindi un mese prima, e inserire appunto all'interno dell'exit intent che il mio albergo si trova a 500 metri dalla fiera Pinco Pallino. Certo, sì assolutamente, quindi la segmentazione è tutto. Sì, ma è anche importantissimo andare ad utilizzare dei contenuti che siano realmente utili, perché il pop-up e anche l'exit intent vengono visti spesso come un qualcosa di fastidioso, noioso, che interrompe la navigazione, ma se il contenuto riesce a dare un valore aggiunto, allora il processo di conversione si alza anche di più. Quindi è importante che il contenuto appunto sia utile e che il pop-up, l'exit intent, si carichi in tempi veloci. Assolutamente d'accordo. Quindi questi sono i nostri consigli relativamente agli exit intent pop-up e misurate, provatelo e fateci sapere la vostra scrivendoci una mail a podcast.slope.it Ciao! 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 Ciao!